La chiusura del parcheggio del Tribunale di Vallo della Lucania non penalizza solo gli avvocati ma soprattutto i cittadini anziani e disabili, a dirlo il responsabile del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara, che interviene così sulla vicenda che vede dal 1 febbraio il Tribunale Vallese senza parcheggio. L'accesso è consentito solo al personale autorizzato, senza possibilità di far sostare le auto sia agli utenti che agli avvocati. Il provvedimento ministeriale è dettato da ragioni di sicurezza ma ha scatenato molte polemiche. Ai cittadini del Cilento bisogna garantire un servizio di giustizia efficiente, sottolineano dal Codacons. Dopo la chiusura del bar con i relativi servizi, adesso si aggiunge anche la chiusura del parcheggio per avvocati e cittadini per questioni di sicurezza ancora poco chiare. Di fatto, l'annosa mancanza di personale amministrativo e i disagi denunciati penalizzano l'unico tribunale a sud della provincia di Salerno. Una situazione grave che non può passare inosservata. Il Codacons sosterrà in tutti i modi il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e altre associazioni in tutte le loro iniziative tese a risolvere i disagi denunciati e le altre questioni evidenziate. Da anni i cittadini del Cilento chiedono diritti, legalità, sicurezza e un servizio di giustizia efficiente. Non è più tempo di demagogia perché il rischio all'orizzonte, se la situazione non cambierà, è la soppressione del Tribunale di Vallo della Lucania. Occorre un'azione sinergica che coinvolga avvocati, magistrati, parlamentari, sindaci, la stessa società civile per contrastare con forza l'indifferenza dimostrata dalle istituzioni per il nostro territorio. È necessario intervenire tempestivamente nell'affrontare il problema con interventi immediati a tutela del Tribunale Vallese. Nelle prossime settimane, concludono dal Codacons, se la situazione non si sbloccherà, il Codacons Cilento promuoverà una petizione di protesta indirizzata al Ministro della Giustizia.